I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. We Will Rock You è la colonna sonora a cui vi siete ispirati per il vostro show al Congress, ma è anche la cifra stilistica che da sempre distingue a Revolution. Come è stato portare il vostro animo rock sul palco? E quale sono le influenze rock della collezione Five Senses che avete appena lanciato? Sì, Cristina, è stato fantastico. Ispirarsi a We Will Rock You in titolo e soprattutto al film Bohemian Rhapsody è stato per noi un'emozione incredibile. Ma ti do anche una motivazione, il perché, perché è coinvolgente, come è Revolution. Arriva al cuore come è Revolution. Fino al punto che un po' la frase che ho dedicato a questo International Congress è cuore italiano anima rock. Portare quello che sono i nostri tagli, i nostri colori. Partiamo dai colori. I colori ieri sera hanno fatto veramente una scena fantastica perché hanno riprodotto al 100% quello che è la collezione Five Senses con un team che, lascia meno dire, ancora una volta ha espresso quello che io desidero da un team, dal mio team, che è la fantastica precisione, il coinvolgimento del pubblico e ancora una volta un obiettivo unico, condividere con tutto il mondo il nostro meraviglioso lavoro e quindi la nostra meravigliosa collezione. Il Sesto Senso è quello che ogni volta mi sento dentro e dedico a tutti voi che è la passione per quello che è il nostro lavoro. Grazie e ci vediamo il prossimo anno dove lo scoprirete ben presto. Ciao!